ore buie questo il nome in italiano del primo raid da otto giocatori di the division 2 sarà accessibile a partire dal 16 maggio per tutti gli utenti che abbiano raggiunto l'endgame l'update è già disponibile per il download su tutte le piattaforme pesa oltre 6 gigabyte corregge tanti bug porta dei ribilanciamenti e aggiunge una sfilza di nuovi contenuti tra cui quella che sarà l'attività più impegnativa del gioco l'ambientazione di ore buie sarà all'aeroporto di washington dc e se avete avuto la possibilità di visitarlo saprete che a dir poco enorme ciò significa che in termini di creatività e level design gli sviluppatori hanno potuto sbizzarrirsi proponendo tante situazioni diverse dal video è chiaro che ci ritroveremo a combattere sia in ambienti interni che all'esterno perfino sulle piste di atterraggio con tanto di aerei di linea che sfilano sopra le nostre teste fortunatamente non si limiterà tutto al solito uccidi nemici attiva la scenetta passa alla prossima stanza ripeti ubisoft e massi vanno infatti implementato degli enigmi che dovremo risolvere durante la missione stessa e sui quali al momento si sa molto poco sarebbe interessante capire se si tratta di puzzle con soluzione statica uguale per tutte le run o se di volta in volta ci sarà un elemento rng che ci imporrà di far funzionare le meningi o raccogliere informazioni sul posto nel primo caso nulla vieterà di cercare una soluzione su youtube che ad alcuni farà piacere ad altri molto meno altro punto interrogativo riguarda la finalità degli enigmi stessi ovvero serviranno a proseguire all'interno del raid o permetteranno invece di mettere le mani su casse addizionali contenenti magari loot unici dovremo attendere ancora un paio di giorni prima di scoprirlo le ricompense dovrebbero essere comunque all'altezza delle aspettative dal nuovo trailer apprendiamo che potremo ottenere degli oggetti unici esclusivi del raid stesso questo significa che potremo andarcene in giro per la mappa di the division 2 nei rifugi o in matchmaking sfoggiando un equipaggiamento che sarà riconoscibile quindi diverso da quelli attualmente presenti in game è un valore aggiunto non trascurabile sappiamo bene quanto la componente estetica sia importante in un gioco multiplayer di questo tipo i loot dovrebbero includere per l'appunto sia elementi estetici che equipaggiamento vero e proprio nel trailer possiamo dare una prima una serie di pezzi interessanti fra cui una fondina a cui è agganciato un tomahawk la classica accetta da lancio degli indiani d'america che dubito comunque sarà possibile utilizzare direttamente possiamo poi apprezzare quello che sembra un nuovo fucile automatico con la serigrafia di un'aquila in evidenza sul fianco che fa la sua porca figura potrebbe trattarsi in effetti dell'arma esotica che mancava ancora l'appello del gioco sapevamo che era da qualche parte ma non esattamente dove fosse avrebbe senso se fosse un oggetto esclusivo del raid stesso magari ottenibile dal boss finale con drop rate basso o magari con una serie di missioni da svolgere proprio all'interno del raid alternativa meno allettante potrebbe trattarsi semplicemente della skin di un'aquila quindi freniamo gli entusiasmi ci saranno ovviamente anche tanti altri loot ma non è chiaro quanti siano effettivamente quelli esclusivi ovviamente quello che vogliamo è poter mettere le mani su equipaggiamento potente ma anche riconoscibile se il raid è davvero l'evento più impegnativo del gioco i giocatori devono essere ricompensati per il proprio impegno in caso di vittoria di certo massive sa bene che è importante tenere i giocatori impegnati è necessario che ci siano contenuti in grado di spingere a un grinding sensato che non sia fine a se stesso continuando nel video arriviamo a un assaggio di quello che potrebbe essere il boss del raid vediamo una sorta di struttura metallica che si apre e che francamente fa un po metal gear considerato che i black task tendono ad essere molto attivi con macchinari piuttosto evoluti ci sta che l'avversario finale sia un qualche tipo di soldato iper corazzato magari con un esoscheletro robotico qualcosa che vada a giustificare un combattimento di 40 minuti e qualche centinaio di caricatori che rimpiazzeremo massacrando ondate di ad scherzi a parte come spesso accade in questi casi ciò che temo di più è che la difficoltà dello scontro col boss possa essere artificiale e per artificiale intendo basata sulla quantità di avversari addizionali che ci attaccheranno mentre cerchiamo di picchiare il boss di turno è quella che di solito chiamiamo modalità orda fin troppo diffusa in questo tipo di videogame ovvero una maniera facile di incrementare il livello di sfida senza inventare nulla di nuovo o di complesso in termini di game design probabilmente anche in questo caso verrà la stessa cosa ma come al solito mi auguro di sbagliare il primo team che riuscirà a vincere il raid verrà immortalato nella storia dei the division 2 con una foto virtuale che figurerà alla casa bianca per tutti gli altri giocatori direi che è un ottimo incentivo per spingere alla corsa iniziale che non dubitiamo si scatenerà appena il contenuto sarà disponibile infine l'idea di non incrementare da subito il level cap è stata sensata in questo modo i giocatori saranno già pronti ad affrontare le sfide si potrà lavorare sulle build più efficaci potenziandosi intanto con pezzi unici auguriamoci che tutto vada per il verso giusto ma speriamo soprattutto che ubisoft e massive tengano d'occhio il subreddit di division 2 dove spesso vengono proposte soluzioni sensate ai problemi che si verificano di volta in volta il 16 maggio intanto saremo in prima linea per farci un giro in aeroporto buon farming a tutti ok ragazzi per questo video è tutto come al solito vi invito a condividere lasciare un like e iscrivervi al canale noi ci risentiamo alla prossima